Allora, in questo video andiamo a criticare, ma dal punto di vista teorico generale e con dati alla mano, che cosa significa la scelta di Letta, di Enrico Letta del Partito Democratico, qual è il significato della sua scelta per dire che dice tasseremo le successioni e con i soldi che ricaveremo dalle tasse sulle successioni andremo a finanziare i costi per chi studia nelle università. Ora, questa che sembra essere una scelta del tutto di sinistra, in realtà non lo è. Sostanzialmente non lo è perché negli ultimi 40 anni il voto che andava prima ai partiti di sinistra, diciamo partiti comuni, partito comunista in Italia, socialdemocratico, di quell'area lì, è profondamente mutato, nel senso che quello che era il partito dei lavoratori, o quelle che erano i partiti dei lavoratori, quindi dell'area per così dire di sinistra, piano piano è diventato il partito dei laureati, quindi della gente con una istruzione più alta della media. Ora, di questo se ne è occupato Thomas Piketty nel suo libro Capitale e ideologia. Cercherò di ripercorrere l'analisi che è stata compiuta da Thomas Piketty proprio per capire come e perché si è avvenuto questo passaggio. In sintesi, si può dire che quello che fu il partito dei lavoratori, poi in Italia il partito comunista italiano, è diventato poi partito democratico, gli ulivi, eccetera, eccetera, dal 1990 in poi è diventato davvero il partito dei laureati. Questo che cosa significa? Questo significa che questo partito non è più rappresentante degli interessi della classe operaia o della classe lavoratrice. La sintesi è che gli elettori di sinistra si sono spostati a destra oppure hanno deciso di non votare. La diminuzione dell'affluenza, la diminuzione della percentuale dei diritti al voto che non vanno a votare, è aumentata di anno in anno sempre di più. Le spiegazioni di questo sono molto semplici. Hanno una spiegazione ovvia. Oggi quello che noi diciamo il partito democratico, l'area socialdemocratica, non è più il rappresentante politico della classe lavoratrice. Naturalmente tutto questo nasce dal fatto che i partiti dell'area di sinistra non rappresentano più gli interessi dei lavoratori. quindi non rappresentano più un'istanza politica di giustizia che abbia come proprio obiettivo la diminuzione delle disuguaglianze. Cominciamo proprio da un'analisi delle disuguaglianze. Vedremo qualche grafico e andremo avanti in questi termini. Cominciamo da questo grafico che ormai si può dire che sia diventato un classico. Che cosa rappresenta questo grafico? Queste percentuali sulle ordinate rappresentano le percentuali del reddito di una nazione in questo caso abbiamo Stati Uniti, Europa e Giappone la percentuale del reddito nazionale che è posseduta dal 10% della popolazione più ricca dal cosiddetto decile superiore. Ora abbiamo i dati che vanno dal 1900 al 2020. Che cosa ci dicono questi dati? Ci dicono questo. Supponiamo di guardare che cosa accade tra il 1900 e il 1910. Questi dati ci dicono che il 50% del reddito nazionale totale è posseduto tra il 1900 e il 1910 dal 10% della popolazione più ricca. bene dopodiché avremo dei picchi quello che volete arriviamo al 1940 c'è la guerra il 10% quindi il 10% della popolazione più ricca nel 1945 poniamo di essere in questi in questi termini qui nel 1945 il 10% della popolazione più ricca possiede non più il 50% del reddito totale della nazione ma poco più del 30% dopodiché negli anni che vanno all'incirca dal 1945 fino al 1970 sia per gli Stati Uniti che per l'Europa che per il Giappone ci manteniamo per esempio prendiamo l'Europa ci manteniamo intorno ad una quota del reddito totale che è al di sotto del 35% dopodiché vi è la risalita vi è la risalita negli anni che vanno dal 1970 fino al 2020 negli Stati Uniti si è quasi al 47-48% nel 2020 vale a dire il 10% della popolazione più ricca delle classi più ricche va di nuovo a possedere circa il 47-5 48% del reddito nazionale totale la risalita avviene anche per l'Europa ma ci manteniamo di poco al di sopra del 35% intorno al 36-37% il Giappone anche per il Giappone avremo una risalita la risalita per l'Europa comincia nel 1980 contemporaneamente che cosa accade nel 1980 nel 1980 le percentuali di voto che si spostano per i partiti di sinistra possiamo chiamare socialdemocratici le percentuali di voto che sono dovuti a votanti più istruiti aumentano mentre diminuiscono le percentuali di voto dovute a votanti meno istruiti in questo grafico potete vedere cominciamo dalle cose semplici il quadratino rappresenta gli Stati Uniti vediamo ora di quale grandezza il cerchietto in bianco la Francia quello con il triangolo il Regno Unito questi dati sono simili anche per gli altri paesi d'Europa con delle differenze significative non del tutto significative per l'argomento che noi stiamo trattando allora che cosa accade abbiamo un ribaltamento nel tempo dell'effetto esercitato dal grado di istruzione sul voto elettorale allora negli anni 50 e 60 vedete qua tra gli anni 50 e gli anni 60 il gruppo del 10% degli elettori più istruiti in questo gruppo i voti per la sinistra erano molti di meno rispetto al gruppo del 90% dei meno istruiti con una differenza percentuale vicina a quella registrata per il reddito questa differenza è misurata appunto da questi numeri cerchiamo di cercherò di essere chiaro sul significato di queste percentuali e di questi numeri allora consideriamo il 10% degli elettori più istruiti e chiediamoci quant'è la percentuale che vota partiti di sinistra negli anni 50 e 60 gli anni 50 e gli anni 60 tra questi elettori più istruiti una certa percentuale poi consideriamo poi consideriamo il gruppo del 90% degli elettori meno istruiti e ci chiediamo qual è la percentuale in questo gruppo del 90% degli elettori meno istruiti che vota per i partiti di sinistra e sarà un'altra percentuale poi ci chiediamo qual è la differenza fra queste due percentuali bene la differenza fra queste due percentuali sono i numeri che noi abbiamo riportato sulle ordinate questo per quanto riguarda appunto la spiegazione di questo grafico mentre sulle ascisse avremo gli anni ora il divario si è ridotto dalla fine degli anni 60 e nel corso degli anni 70 e 80 no quando noi arriviamo intorno al 70 80 avremo zero di percentuale all'incirca a parte il regno unito che si è spostato verso l'85 ma per quanto riguarda stati uniti per esempio e francia non ho i dati per quanto riguarda l'italia però questo è un discorso generale e picchetti ehm introducendo anche altre variabili ha dimostrato che l'andamento qualitativo di queste curve non dipende diciamo è indipendente dai paesi in cui avviene risulta esserci una certa indipendenza quindi un discorso del genere lo possiamo fare anche per l'italia per la germania con certe differenze ma che non sono importanti a livello in cui noi stiamo parlando quindi dicevamo questa percentuale diventa zero intorno agli anni 70-80 e poi la percentuale ricomincia a salire ok quindi dagli anni 90-0 del 2000 nel gruppo del 10% dei più istruiti i voti per la sinistra sono diventati molto più numerosi ok che non nel gruppo del 90% dei meno istruiti con una differenza percentuale compresa anche qui tra i 10 e i 15 punti percentuali no siamo qui c'è un 8 10-15 siamo appunto in queste in questa fascia vedete 12-16 siamo in questa fascia qui questa è la condizione ora quindi possiamo sintetizzare e dire nel dopoguerra la sinistra parlamentare era un partito dei lavoratori nel senso che la sinistra il partito comunista in Italia era il partito dei lavoratori e quindi dei lavoratori dipendenti in particolare con un livello di istruzione modesto mentre nell'ultimo mezzo secolo è gradualmente diventata la sinistra la scelta elettorale dei laureati ed in particolare dei dirigenti e dei professionisti questi grafici sono abbastanza espliciti nel dirlo ora quello che ci interessa è riuscire a trovare una spiegazione per quanto è avvenuto ora è chiaro che la sinistra parlamentare parliamo in Italia per esempio la sinistra parlamentare in Italia non è riuscita ad assorbire rappresentare le istanze di giustizia sociale dei lavoratori della classe dei lavoratori altrimenti questo tipo di spostamento elettorale non si sarebbe verificato in Italia è stata ancora più ancora più evidente è stato ancora più evidente tutto questo e lo è tutt'oggi cioè la sinistra negli anni che vanno dal 1980 al 2000 anche al 2010 non ha avuto un progetto politico tale da garantire da garantire nei propri programmi quella giustizia sociale e quell'istruzione equa che gli avrebbe garantito il voto dei lavoratori questo se l'è perso per strada ora andiamo a vedere un altro grafico guardate bene questo grafico sulle ascisse è un grafico che riguarda gli Stati Uniti d'America ed è il modello che gli economisti consigli che consigliano il signor Letta seguono per quanto riguarda le politiche sull'istruzione è molto interessante la convergenza che ispira Letta verso le teorie neoliberiste allora avremo sulle ascisse sulle ordinate il tasso di accesso agli studi superiori no? e sulle ascisse il reddito dei genitori e l'accesso all'università negli Stati Uniti nel 2014 come è costruito questo grafico negli Stati Uniti nel 2014 il tasso di accesso agli studi superiori era di appena il 30% per i figli di famiglie appartenenti al 10% dei più poveri quindi se noi prendiamo il 10% delle persone più povere quindi con reddito più basso soltanto il 30% di queste famiglie riusciva ad accedere agli studi universitari ma per i figli appartenenti alle famiglie che avevano il 10% dei redditi più alti che appartenevano a quel decile superiore al decile superiore per quanto riguarda la quota di reddito l'accesso all'università era oltre del 90% quindi fra il 10% delle famiglie con reddito più basso accede nel 2014 nelle università americane soltanto il 30% dei figli appartenenti a queste famiglie mentre nel 10% se consideriamo il 10% dei redditi più alti l'accesso all'università per i figli appartenenti a queste famiglie è di oltre il 90% questa è la fotografia della disuguaglianza per quanto riguarda l'istruzione ora capite che se questa è una situazione anche se non con queste percentuali ma è una situazione che poi si presenta anche in Italia capite che la tassa di successione proposta dal signor Letta per finanziare gli studi universitari è in realtà una tassa dei ricchi per i figli dei ricchi perché i più poveri non avranno lo stesso la possibilità di accedere agli studi universitari e questo ci fa capire che non è questo il modo per far diminuire la disuguaglianza nell'istruzione ma di sicuro è il modo con cui il signor Letta si continua a garantire il voto dei laureati delle persone più istruite ed è questo l'obiettivo di Letta ripeto l'obiettivo di Letta è quello di incrementare il voto dei laureati o almeno di mantenerlo e come fa ad incrementarlo o almeno mantenerlo dicendo noi tasseremo le successioni e con le tasse delle successioni vi consentiremo di accedere all'università ma chi è che accede all'università i figli dei ricchi quindi sono tasse che le famiglie con reddito più elevato pagano quelle di successione per finanziare chi? i figli delle famiglie a reddito più elevato e finanziare quindi i loro studi e quindi incrementare ancora di più la disuguaglianza sociale che si esprime appunto nella possibilità di avere un'istruzione si parlava un tempo di diritto allo studio questo tipo di politiche non è per niente non segue per niente questa direzione di diritto allo studio anzi incrementa ancora di più le differenze sto cercando di fare un discorso il più lineare e semplice possibile affinché sia capito perché questo è un fatto molto importante il figlio dell'operaio oggi se va all'università e ci va usufruirà dell'istruzione pubblica quindi delle università pubbliche possibilmente vicino casa perché se è fuori casa aumentano le spese e le spese con gli stipendi e con i salari degli operai per mantenere un figlio all'università sono troppo alte quindi il primo scarto avviene nel nella scelta della facoltà da fare un secondo scarto quasi contemporaneo avviene in riferimento al luogo in cui fare l'università il terzo scarto avviene ancora uno scarto in più avviene non semplicemente in quelle che sono le spese da pagare in tasse all'università ma proprio nelle spese da sostenere per il mantenimento della vita universitaria e qui ci sono poi tutti gli atenei ogni università fa le distinzioni tra reddito non reddito quello che ti do quello che ti manca eccetera eccetera ma le spese rimangono lo stesso alte quindi se si tassano le successioni quindi voglio dire molti figli di operai molti figli di lavoratori non possono nemmeno pensare di andare all'università perché già all'inizio questa possibilità non è data non c'è la possibilità di farlo a meno che non si scrive una facoltà che ha poca importanza costa poco andarci e così via poi certamente ci sono quelli che insistono che hanno più possibilità che fanno più sacrifici eccetera ma noi non ci possiamo occupare delle eccezioni ci occupiamo del caso più generale del caso medio quindi quindi chi già decide di andare all'università avrà avrà già la possibilità di sostenere quelle spese tra quelli che decidono di andare all'università ci sono poi quelli che hanno ancora più possibilità degli altri e anche questi verranno aiutati dal signor Letta con questo Letta si garantisce il voto per oggi per il partito democratico e anche per il futuro senza però avere aggiunto niente alla diminuzione della disuguaglianza sociale che si esprime e si manifesta nella disuguaglianza dell'istruzione di quanto stiamo dicendo Thomas Picchetti ci presenta i grafici che riguardano la Francia sarebbe interessante che qualcuno riportasse se fosse possibile non so manco se ci siano i dati per fare queste statistiche in Italia quello per quanto riguarda l'Italia per esempio invece di per così dire parlare a bambera sarebbe opportuno avere dei dati simili per quanto riguarda l'Italia che cosa succede in Francia vedete qui abbiamo le elezioni del 1956 che cosa ci dicono questi dati che il 57 per cento dei votanti degli elettori votanti i partiti socialdemocratici l'area dei partiti socialdemocratici aveva soltanto la scuola elementare scuole secondarie il 49 per cento università il 37 per cento ancora meglio ci viene detto che il 57 per cento degli elettori senza un titolo di studio o in possesso della sola licenza elementare che nel 1956 fate attenzione erano il 72 per cento dell'elettorato ha votato per i partiti di sinistra ha votato per i partiti di sinistra contro il 50 per cento di chi aveva un diploma di scuola secondaria ed il 37 per cento dei laureati vedete come la situazione con il passare degli anni si è andata a capovolgere fino ad arrivare al 47 per cento che sono il 18 per cento dei votanti totali con le sole scuole elementari e quelle dell'università sono il 58 per cento quindi nel 2012 in Francia questi sono i dati relativi alla Francia il 58 per cento dei votanti di partiti di sinistra erano universitari ora qui naturalmente si apre un problema non da poco qual è questo problema questo problema è capire in qualche modo come è potuto accadere cioè come è potuta accadere la trasformazione del partito dei lavoratori in quello dei laureati e questo come uno sviluppo a lungo termine e ripeto che non ha non è stato qualcosa che ha riguardato soltanto la Francia dagli anni 90 in poi il profilo dell'elettorato di sinistra ha visto un graduale aumento di elettori con un alto livello di istruzione e questa nuova tendenza diventa sempre più netta mano a mano che ci si avvicina al 2000 ora in contemporanea ritroviamo appunto la ritirata delle classi popolari registrata nel periodo 1990 2020 e questo illustra un cambiamento radicale provocato da che cosa provocato dalla fine del sistema delle divisioni classiste tipiche del periodo 1950 1980 cioè questo ci porta a dover definire meglio di che cosa si tratta quando si parla di classe classe socio-economica classe socio-economica e culturale attenzione quindi vi è un solco ed ecco perché si tratta di lotta di classe ma bisogna capire chi è da una parte e chi è dall'altra vi è un solco scavato tra generazioni e classi sociali ma questo solco non è così come può venire visto da da un'analisi poco attente e poco accurata della situazione voglio dire questo non è che vi è una lotta di classe tra nuove generazioni e vecchie generazioni ok questa è una lotta di classe tra chi si è ormai posto nella posizione intermedia tra le classi popolari lavoratrici e la classe dell'alto capitale del grande capitalismo semplicemente di che cosa si tratta in parole molto semplici si tratta della creazione del cuscinetto borghese tra classe proletaria e classe capitalista chi perviene per così dire a formarsi come borghese e quindi si laurea ok e conduce un tipo di vita borghese e questi termini certo parlare di borghesia oggi e beh suona male ok ma che cosa volete che sia questa sinistra benestante intellettuale è borghesia cioè è borghesia che segue gli interessi del capitale quindi quello che viene vista come lotta di classe generazionale non lo è affatto perché vasti strati della popolazione non accedono a questa offerta istruttiva non accedono perché non hanno le possibilità economiche per accedere a quell'offerta istruttiva chiaro cioè questa è la verità non si accede perché non si hanno le possibilità economiche per accedere perché parte dell'università i tre anni la laurea breve poi la laurea magistrale sono semplicemente dei contenitori di gioventù attiva non politicizzata che è abbindolata dall'ideologia neoliberista da quell'ideologia che dice se sei abbastanza in gamba potrai diventare ricchissimo ok perché è ancora questo che si va dietro e gli altri quelli che possono mantenersi gli studi i master non soltanto accedere all'istruzione pubblica ai tre anni che ormai c'è un'inflazione istruttiva per quanto riguarda le lauree di tre anni si va oltre si va ai cinque anni si va oltre si va al dottorato si va oltre si va al master chi può mantenersi questa questa ascesa dell'istruzione poi accederà per così dire ad una nuova classe sociale ma quella classe sociale è quella classe è la classe borghese medio piccola medio medio alta istruita borghesia come li vogliamo chiamare sono e sono gli intellettuali benestanti di sinistra ma come potete capire in realtà non sono affatto di sinistra sono quelli che una volta si sarebbero detti benestanti di destra borghesia di destra quindi faccio questo discorso perché qualcuno come Michael Baldwin utilizza il termine scontro di classe per fare un po' di confusione non si parla di scontro di classe perché qui non è che ci sono delle macchine che si scontrano questa è lotta lotta di classe capito lotta di classe la classe che sta lottando che nuovamente inizia a lottare è la classe proletaria che lotta contro la classe borghese anche della medio borghesia che finge di essere di sinistra perché ideologicamente gli conviene dire di essere di sinistra che di solito va a votare PD perché crede di votare o vuol credere immagina di votare un partito di sinistra ma che in realtà è un'espressione della destra è un'espressione della destra borghese questo che significa questo che cosa significa significa che i voti che vanno alla destra oggi cioè i voti che andranno alla meloni ok sono in realtà dei voti della classe lavoratrice che non si sente rappresentata e il punto qual è qual è la la grande truffa di tutto questo che le classi lavoratrici non sono rappresentate né a sinistra né a destra perché per quanto riguarda la piccola e medio borghesia l'artigiano il commerciante il piccolo commerciante il medio commerciante che voterà a destra penserà di essere rappresentato da quella destra ma poi quella destra dovrà seguire gli interessi che gli verranno dettati dall'agenda europea che la destra dovrà seguire e quindi dovrà andare anche contro gli interessi del piccolo artigiano del piccolo medio commerciante eccetera eccetera quindi neanche loro saranno rappresentati da questa destra intenderci appunto fratelli d'italia salvini berlusconi saranno truffati anche loro saranno truffati loro perché la destra dovrà seguire gli indirizzi dell'europa e non potrà fare a meno per i motivi che ho già spiegato in altri video sostanzialmente perché deve seguire quello che dice la nato deve garantire che il debito pubblico italiano venga comprato dai capitali finanziari e quindi si devono seguire certe ben definite politiche economiche la classe lavoratrice a sua volta non può essere rappresentata dal PD perché il PD è soltanto un partito di destra della borghesia di destra oggi e segue gli interessi di quella parte di quella borghesia di destra in sostanza come ho detto e come ripeto l'unica possibilità che ha di esprimersi la classe dei lavoratori di esprimersi secondo come stanno le cose è quella di astenersi dal voto non c'è altra possibilità perché nessuno oggi rappresenta la classe dei lavoratori chiaro perché questa classe dei lavoratori è ormai stata soggiogata da un'ideologia che è un'ideologia omogenea da qualunque parte voti avrà i risultati simili analoghi e non saranno i risultati che tu ti aspetti questo è il punto a tutti i giovani voglio dire ai giovani che si accingono a votare vorrei dire di non farsi prendere per così dire per i fondelli dal PD di non farsi affascinare da quello che poteva essere la storia del PD del partito comunista non esiste proprio più questa questione vi stanno per così dire truffando vi stanno dicendo il falso questa è la verità vi stanno dicendo il falso vi stanno truffando l'unica possibilità che i giovani hanno per riprendere in mano la propria cittadinanza la propria forza partecipativa è quella di riunirsi in assemblee popolari faccio una domanda dei giovani universitari quante sono le assemblee che vi sono state concesse nelle università per la critica di ciò che sta succedendo in Italia quante sono le assemblee che avete fatto che cosa esprimete in queste assemblee c'è un minimo di autogestione nelle assemblee o questo non vi è consentito questo non vi è consentito non vi è consentito perché il sistema non vuole darvelo capite voi non avete voce oggi né potete chiedere di avere voce perché sarete bloccati sarete bloccati voi non potete parlare ok ok per oggi basta per far capire dov'è l'inghippo della proposta diletta ok è una proposta che in realtà favorisce l'elitarismo è una proposta che favorisce l'elitarismo cioè va ad aiutare chi non ne ha bisogno è un surplus per chi già ha la proposta diletta quindi assolutamente non fidatevi di queste offerte molto sofisticate che vi fa il PD quello che vi posso dire astenetevi dal voto appena entrate all'università chiedete di fare assemblee di analizzare e di criticare la situazione secondo forme di autogestione della cultura voi dovete pretendere l'autonomia della vostra cultura ok ci rivedremo la prossima volta dove andrò a definire meglio che cosa si intende per classe solo una cosa per quanto riguarda le classi le classi sono classi che lottano ed è lotta tra classe operaia lavoratrice classe borghese e classe capitalista la classe borghese i borghesi stanno in mezzo è necessario che ci sia questo cuscinetto perché questo è lo specchietto delle allodole che dice all'operaio ecco l'ideologia di destra dice all'operaio beh lavora tu non sei altro che un operaio ma tuo figlio potrà diventare ci sono dei casi eccezionali sì ci sono ma appunto sono le eccezioni ed una società non si può fondare sulle eccezioni deve garantire una continua diminuazione della disuguaglianza e non basta più soltanto garantire l'uguaglianza delle opportunità ma bisogna cominciare a parlare anche dell'uguaglianza degli esiti ma di questo discorso ne parlerò in seguito grazie e al prossimo video grazie